Ehi là ragazzi, allora, come avete visto nei video della settimana scorsa, queste creazioni non si erano asciugate, allora ho detto dai, aspetto, magari fra qualche giorno, se siamo fortunati, si asciugheranno, ma ovviamente ragazzi, no, non si sono assolutamente asciugate. È passata quasi una settimana e la situazione è rimasta perfettamente identica. Quindi non benissimo direi, ora ragazzi dovrò cercare con voi di tirar fuori queste creazioni che andranno purtroppo tutte buttate via e dovrò cercare di fare qualcosa per pulire questi stampi, perché a parte magari questi qua, perché questa l'ho messa via, questa è l'unica venuta bene, a parte magari questi tre, gli altri saranno problemi, perché questa è la situazione ragazzi. Vediamo se riesco a farvelo vedere, che è dura la situazione qua, ahia che male. Ecco, guardate qua, questa è la situazione, quindi sì, ci sarà da cercare di salvare questi stampi, altrimenti saranno da buttare perché la resina non si è asciugata. Ora, questa è la seconda volta che faccio un SOS stampi. La volta scorsa ero bene o male riuscita a risolvere più che altro perché avevo capito qual era il problema. Tutte le creazioni che avevo fatto con l'ultima resina che avevo aperto non si erano minimamente asciugate perché la fabbrica si era sbagliata. Nelle bottiglie c'era scritto in una componente A, nell'altra componente B, ma quella del componente B in realtà c'era il componente A, quindi il componente A e il componente A non si era mai asciugata ovviamente. Quindi ci avevo aggiunto, l'avevo scoperta sta cosa, ci avevo aggiunto dei componenti B e un pochino ero riuscita a risolvere. Qui invece la situazione non è così liquida, ecco, questa è la situazione appunto molto appiccicosa, quindi devo fare quello che ho fatto nella seconda parte di quel video. Che tra l'altro era piaciuto tantissimo, non so perché è un video in cui provo a salvare gli stampi e ha fatto 700.000 avviso, sono veramente confusa. E visto che mi avete richiesto di farlo anche stavolta, anche perché non mi era venuto in mente, quindi grazie, e adesso vediamo se ce la faccio ragazzi. Allora, intanto per cominciare, mi sono presa degli scottex, guanti, salvettine umide, cotton fioc, e ora ragazzi intanto per cominciare mi metto i guanti, perché serviranno decisamente. Visto che come avete visto la situazione è, visto che come avete visto, la situazione è molto appiccicosa. Ah, che bello i guanti, ci sono 600 gradi in casa mia, non credo l'ora. Io ho sempre adorato il caldo nell'estate ragazzi, quest'anno vi giuro non ce la faccio più. Quest'anno è troppo e non lo reggo nemmeno io. Allora, da cosa vogliamo partire? Ma aspettate, partiamo da questi, perché questi, anche se le creazioni sono comunque da buttare, ero riuscito a tirarli fuori abbastanza bene. Piano. Ok, voi direte che peccato perché è da buttare? Eh sì, è molto carina, ma questo strato di resina, non so se vedete, ha la consistenza di uno slime, vedete? Decisamente non si può tenere. Non so quanto si veda quello che sto facendo, però vedete che riesco a maneggiarlo molto bene. Ecco, cioè sì, ecco. E visto che non si asciuga assolutamente, non c'è verso, e niente. La cosa che mi rompe di più le scato è che questi, io avevo comprato questi sticker che erano nuovi, ma non ci posso fare niente. Quindi, da buttare. E questo stampo è a posto, e anche questo, perché la situation è la stessa. Però vedete, perché in questi la situazione era così, però non è troppo appiccicosa. La parte interna è appiccicosa, la parte esterna che sto palpando non lo è più di tanto, e quindi lo stampo rimane pulito. Perché con gli altri invece è praticamente colla? Non ho capito. Ma che cosa è successo? Non ho capito nemmeno quello. E siamo a tre. Altra, altra creazione slimosa, tipo. Questa qui, invece. Come faccio io a togliere sta roba? Allora, non so, magari con un cotton fiocco riuscirò a togliere sta schifezza. Oddio, oddio. Zucchero finato! Forse era meglio provare con una salviettina prima. Sì, ben non sta andando proprio bene. Voglio vedere cosa combino con una salviettina. No, ti prego, non dovrei, uso la salviettina apposta perché non dovrei toccarlo il guanto. Allora, detto molto onestamente, io non ci riesco ragazzi, proprio non ce la faccio. Boh, io adesso proverò a colarci, avete presente quella resina che asciuta in 20 minuti? Avevo provato a fare sta cosa per togliere dei residui anche nello scorso SS stampi. Io così non ci riesco, questa roba è veramente, cioè, è proprio la forma dello stampo che è di una scomodità estrema. Immaginatevi di togliere la gomma da masticare in una forma del genere, perché la consistenza è quasi quella, anzi più appiccicosa. Però questo stampo, meno male, si salva abbastanza, anche perché di questa forma qui, se poi anche non si salverà, sinceramente non me ne frega niente, devo essere proprio onesta. Questo qui, non mi ricordo se ero riuscita, sì, questo si toglieva, anche questo facilmente, meno male. Questo, eh no, vedete, la situazione è sempre la stessa, però rilassante da fare questa cosa. La resina molliccia ASMR. Ah, guardate quanti erano carini tutti questi, questi sticker. E voi magari direte, ma perché la stai palpando? Magari si asciugavano? Affidatevi ragazzi, se in quasi una settimana la situazione non cambia minimamente, significa che non succederà mai, purtroppo. Bene, ora rimangono quelle negli istanti rigidi, che sono quelle che hanno tutta la situazione di questa, quindi mi preparo questo, perché butterò qui questa roba, se riuscirò a tirarla fuori, perché non è così facile, sembra incollata. Ai, oddio. Wow ragazzi, è più, wow. Oh mio Dio. Stavo cercando di portarne via un po' con me, ma... Aiuto, non si stacca, non si stacca. Allora, in parte che devo cambiare i guanti, non riesco, cioè come se fossero incollati. Io davvero non ho idea di come poter fare a salvare questo stampo, cioè... Con quelli di silicone era, nell'altro video, era molto più facile questi che sono rigidi, io davvero non lo so, anche perché questa non è liquida. Ha proprio la consistenza di una colla dura. Davvero ragazzi, non so che cosa fare. Meno male che questi guanti non li uso più per il film, visto che, non so, ho perso l'abitudine di usarli. Mi trovo meglio senza, ora non so cosa è successo. A proposito di questo, io volevo fare in questi giorni un altro video sul film, ma non posso fare un update di creazioni perché, come vi dicevo, non ho il tempo di farle. E quindi ne ho ben po' che ne ho ben. Però mi piacerebbe fare un video magari facendo vedere come si fa una creazione che vi interessa, non lo so, qualcosa, ditemi voi che cosa vi può interessare. Io sto pensando a come fare, vi giuro che non ci riesco, non so che cosa fare. Intanto tolgo anche le altre, e poi vedo, perché in questo caso ragazzi, non lo nego, non escludo che gli stampi li butterò, perché davvero non ho idea di come fare, proprio non lo so. Mamma mia. Bene, fantastico, ecco qui l'altro. Questi qui. Oh mio Dio, no no raga, non ce la farò mai a togliere questa roba. No raga, ve lo dico, no no non ci riesco, no davvero non posso farci niente proprio. Non so come farvi capire la consistenza, ma non è solo appiccicoso da morire, è proprio dura. E va bene. Quindi no. Questo SSS stampi ragazzi, è andato proprio male. Io questi stampi li devo buttare per forza. Va che roba, oh mio Dio. Io non so cosa dirvi ragazzi, cioè è come provare a togliere dell'attac, dell'attac in quantità industriali. No, non c'è assolutamente verso di staccarlo da questi stampi, proprio zero. Quindi no, questa volta ragazzi l'SSS stampi non è servito. L'altra volta la situazione era migliore sicuramente, perché la resina rimasta era liquida ed era in stampi di silicone. Con gli stampi di silicone come avete visto anche in questo caso ci si può lavorare sicuramente meglio. Questi li devo buttare. Allora, di questi onestamente non me ne frega proprio. Li ho usati poche volte e non mi piacciono granché. Li avevo presi solo perché erano a cuore. Questi qui invece mi rompe perché li ho usati spesso, ma ne ho altri uguali a questi. Almeno un altro due li ho, quindi pazienza. Però ragazzi, credetemi, non esiste modo per toglierli. Voi avete visto il video con dei tagli, ma io ci ho pensato tantissimo e non c'è assolutamente verso di staccare questa roba da qua dentro. E non ho intenzione certo di mettermi a versarmi gli stampi degli acidi che sciolgano la resina. No, non c'è dubbio, ce li butto via piuttosto che fare un macello del genere. Quindi ragazzi, niente, purtroppo questo SS stampi è andato molto male perché gli stampi di, questi stampi di GD non sono al massimo, se proprio dobbiamo dirla tutta. Niente, mi dispiace, io non credo che questo video mi possa essere piaciuto molto, io ci ho provato, ma non si salvano le creazioni e non si salvano gli stampi. Mi dispiace ragazzi, ciao!